Adescava giovani donne in chatto su siti di incontri, conquistava la loro fiducia e successivamente le invitava a casa, con il pretesto di conoscerle meglio. Poi, quando riusciva ad avere rapporti sessuali con loro, le filmava di nascosto. Da quel momento, se le ragazze si rifiutavano di continuare ad incontrarlo, le ricattava minacciandole di diffondere in rete i filmati in suo possesso. Con l'accusa di estorsione e violenza sessuale, i carabinieri di Vasto hanno arrestato un operaio di Vasto di 35 anni, in applicazione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Vasto, sulla richiesta della procura. Le indagini sono partite dalla denuncia di una vittima, una giovane di 23 anni, numerosi i filmati sequestrati, mentre sono ancora in corso accertamenti da parte degli uomini dell'arma dei carabinieri di Vasto.